Siamo soddisfatti di quanto appreso dai vertici ANAS sul futuro del viadotto Sente Longo, il tutto anche in considerazione delle indagini, verifiche e controlli che sono in corso sull'infrastruttura e che nei prossimi giorni potrebbero far ben sperare per la sua praticabilità e quanto dichiarano il consigliere regionale Andrea Greco e la parlamentare abruzzese Carmela Grippa, entrambi del Movimento 5 Stelle. Non si esclude la riapertura del viadotto, seppur parziale ai mezzi leggeri. Sarebbe così riaperto il collegamento tra l'Alto Molise e l'Abruzzo, una chiusura che ha penalizzato fortemente l'economia di Agnone, le sue scuole, l'ospedale e il commercio. Entro la fine di ottobre, quindi fino a ottobre massimo metà novembre, ci hanno assicurato che tutte le analisi saranno terminate, quindi solo una volta che si avrà il quadro complessivo di tutte queste verifiche, quindi sia geologiche che strutturali, allora si potrà emettere un verdetto in qualche modo, cioè se è possibile riaprire l'arteria, se si potrà invece riaprire solo dopo dei piccoli interventi o se saranno necessari degli interventi più importanti. L'obiettivo di ANAS prioritario in questo momento è quello che gli abbiamo indicato, l'obiettivo è di cercare in ogni modo la riapertura, anche parziale, anche con delle limitazioni di traffico. Cercheremo in ogni modo, naturalmente nel pieno rispetto della sicurezza per chi vi dovrà circolare su quel viadetto, di perseguire quell'obiettivo. Non molliamo la presa, voglio ringraziare la collega Carmela Grippa davvero per l'impegno costante, ormai presso la direzione generale di ANAS, devo dire che si sono quasi stancati di vederci perché siamo diventati in qualche modo percussivi e vi possiamo garantire che non vi lasciamo soli e fin quando non avremo raggiunto l'obiettivo in qualche modo non molleremo la presa.